5 Stelle, nuovo passo indietro di Beppe Grillo che non farà parte del Comitato elettorale del Movimento. Claudia Mazzola. Sempre più Di Maio, ora col piede sull'acceleratore per il rally tour, è sempre meno Grillo. Il fondatore per la prima volta scompare dal Comitato elettorale per le prossime politiche, che tra le altre cose gestisce la Cassa del Movimento. Tre membri che ne fanno parte, due fedelissimi di Di Maio e un dipendente della Casaleggio. Sarà invece ancora Grillo ad occuparsi del dossier sui criteri per le candidature. In agitazione i parlamentari, tra loro c'è chi, come Paola Taverna, vorrebbe una sorta di recall, ovvero una misura ad hoc che, tradendo il principio dell'uno vale uno, assicuri loro la presenza in lista senza passare dalle parlamentarie. Ma Di Maio mette il veto, io per primo mi sottoporrò al voto della rete, fa sapere, anche per evitare altre grane sul piano legale. Orientato a regole uguali per tutti Casaleggio, sempre in vista delle politiche, che il Movimento, con una lettera, torna poi a chiedere il monitoraggio dell'OSCE durante la campagna elettorale. Noi abbiamo chiesto com'è nelle sue prerogative non solo di monitorare il regolare svolgimento delle votazioni, ma anche i media e la campagna di informazione che ci sarà durante la campagna elettorale. E poi l'auspicio a votare inizio marzo. Grazie.